buon ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video checriccio come state spero bene allora questo è un video checriccio dove parlo un po di tutto insomma allora innanzitutto mi sono pulita bene tutta la casa ci va a fondo non ho trovato la pulizia perché tante ragazze non me la sono sentita però tutto il resto è nato bene comunque allora sono tutta bene truccata non sembra che le luci sfalzano un po aspetta seconda eccomi qua allora dicevo le luci sfalzano un po però io non so come mettermi quindi vabbè col cavalletto perché siete appoggiati sul cavalletto la ring light è spenta ovviamente però vabbè oggi non mi trucco però domani se riesco mi trucco ah no domani devo uscire ma non dico ancora dove vado perché non ho ancora dove vado se vado a un videoblog non avevo idea però nel frattempo stasera vi faccio questo video dove vi parlo un po di tutto già allora mi ha lavato la casa la casa e la mia camera poi lavato con la nonna ho lavato il bagno i sanitari e la cucina non l'ho cucinato perché non c'è me piace cucinare più a mia onna sì a me piace cucinare però cucina mia onna addio ma sono gonfia e sì un po qua sono gonfia sembra così ma io sono gonfia non so perché ma mi vedo comunque niente si sembra che sia gonfia da questa parte comunque niente dicevo mi sembra che oggi la giornata finalmente si è conclusa quindi che bello e niente quindi alla alla fine non so come metterlo questo telefono vabbè non lo so non so mai come inquadrare la mia faccia quindi ho tutto vabbè mi ha tutto insomma come inquadrare col telefono vabbè niente quindi ragazze mie cosa voglio dirvi di tutto sommato che era ora che finalmente poi c'è un altro videoblog che ho chiesto i capelli non li posso vedere vabbè ho fatto un bello chignon che non so se vi piace a voi però a me sì tantissimo e allora oggi sono uscita finalmente di casa dopo aver fatto pulizie fatto tutte le pulizie facendo casalegne voglio dire facendo domestiche si può dire sì e niente sono uscita con con la mia con il supporto psicologico diciamo la verità che è meglio dire la verità e niente e alla fine sono sono uscita chicharata un po abbiamo parlato dopo che abbiamo parlato è finita l'ora del supporto psicologico sono tornata a casa se bella a casa se bella infatti comunque ci sarà il video per voi e niente io ho mangiato una bella merendina al cioccolato croissant al cioccolato così e dopo di che non ho mangiato un'altra ovvero la camilla la camilla è buonissima troppo buona già mi piace da morire e niente quindi tutto il resto è buono e tutto è sempre mangiato perché devo vedere la verità ho fatto un ho un passeggiato passeggiato pasticciato fuori pasto però tanto poi magno come un maiale quindi non mi dispiace già non mi dispiace per niente come dire la verità è nulla quindi ragazze mie che dire noi ci si becca in un prossimo video perché vi ho parlato un po e non lo so boh quindi che dire questo è uno dei miei video per parlare un po con voi e dirvi un po come è andata la giornata nulla di speciale nulla di rilevante comunque tanto per parlare un po con voi ah mi piace la nuova angolazione se è così la farò anche per gli altri video che tra i due ultimi se gli fa un po a piacere questa è la mia angolazione ma non lo so dove posso attaccare il gancio della delle ring light se non è che ah no però se non è niente mi tocca andare più forza di là voi non lo vedete ma di là c'è la posizione per agganciare per agganciare questo ragazzo lo vedete aspettate lo faccio vedere senza che devo fare ultimo di danni questo sarebbe questo aggancio per far vedere sì per far vedere la ring light per accendersi la ring light senza quella non l'accendi un bel niente ci sono cani sottofondo ma vabbè dettagli come al solito e niente a quanto sono? non ho capito quanto sono i minuti ci sono i minuti di video che parlo yeee e vai e niente bene ragazze questo era tutto io vi saluto vi ringrazio attivate la campanella spolliciate o disi spolliciate come guardate voi e ciao 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 Grazie.